Fratelli e sorelle bianconeri salve a tutti e allora c'è ufficialmente il sì del Viminale per far riprendere domani gli allenamenti ai giocatori delle varie squadre di Serie A di qualsiasi regione, allenamenti individuali nei propri centri sportivi con le cosiddette distanze in sicurezza eccetera eccetera, allenamenti individuali a gruppi magari da due con le distanze eccetera eccetera ma si possono riprendere in queste prossime due settimane a partire da domani gli allenamenti individuali, che cosa vuol dire? Che non si sa se il campionato, se questo voglia dire che il campionato ripartirà, anzi per me è sempre molto 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 difficile ma se dovesse veramente ripartire a metà giugno, insomma ci sono squadre che avranno un notevole vantaggio di preparazione perché ancora non si sa quei nostri nove giocatori quando minchia torneranno a Torino per poi mettersi in quarantena e ripeto non tutti hanno le case di Cristiano Ronaldo dove si può fare attività, è quasi un centro sportivo la casa di Ronaldo insomma ci sono appartamenti come quelli di Delict in centro, ci sono degli attici dove insomma puoi fare il tapirulan, puoi fare le flessioni addominali, quello che è ma non è come un centro sportivo attrezzato, attrezzato tecnicamente, scientificamente per fare degli allenamenti seri come un professionista e questi personaggi che non vogliono tornare a Torino, quando torneranno e se torneranno, si dovranno mettere in quarantena e a casa non è un centro sportivo, parliamoci chiaro, queste squadre ripartiranno con un chiaro vantaggio se si ripartirà sempre, dubito, ma se si ripartirà avranno un certo vantaggio di una, due, tre, forse quattro settimane e di vantaggio su molti nostri giocatori che ancora non si sa quando torneranno la Juventus sull'argomento glissa, le uniche parole sono state quelle di Agnelli che ha detto sì, vogliamo giocare e faremo di tutto per giocare e vincere sul campo questo campionato ma con quali giocatori Agnelli? Li facciamo tornare oppure no? Li facciamo tornare oppure no? un invito, un invito per farli tornare no? Un caffè, un cappuccino, un cornetto glielo diamo o no a questi giocatori, a questi signori questo invito per tornare? il tempo stringe ragazzi, gli altri si sono messi all'opera e noi, e noi indietro, mi raccomando, mi raccomando Agnelli, forse, sveglia, 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 fino alla fine